I don't see Il 25 novembre a Verbagna e il Chiostro con le interviste che ora vi proponiamo possa essere una degna preparazione per ricordare a tutti noi che accogliere il Signore vuol dire riconoscerlo nei poveri. Allora con queste interviste fatte durante il convegno di domenica scorsa vi invitiamo a seguire la nostra puntata poi ci rivediamo alla fine per un saluto. A me è piaciuto molto questo convegno estremamente attuale perché investe un po' la crisi con tutti i suoi aspetti per cui la relazione del professor Magatti prima ci ha illustrato e spiegato da dove viene la crisi e quali sono tutti gli effetti che ha comportato non soltanto dal punto di vista economico ma l'impatto sociale e sociologico. E poi il Vescovo ha cercato di contestualizzare la cosa nell'ambito pastorale e diocesano e ritengo che sia estremamente positivo perché mi ha dato una visione diversa e molto più ampia sui problemi connessi con questa crisi. Tu ti chiami? Guido Besuschio, sono di Novara. Ecco se non sbaglio tu hai anche qualche altra attività in questo settore tipo il commercio equusolidale se non sbaglio. Sì, io sono stato per vent'anni presidente della cooperativa Baccasci di Novara di commercio equusolidale e ho cercato di portare avanti questa attività adesso in un tentativo di rinnovamento un po' dell'associazione e della cooperativa abbiamo lasciato il posto ad altri che portano avanti questo sforzo con grande difficoltà perché la crisi investe un po' tutti i settori compreso il commercio equusolidale. Però lo ricordiamo può essere un'occasione di rivedere lo stile di vita anche nel nostro territorio e nel VCO ci sono questi negozi del commercio equusolidale, può essere un'occasione per rivolgersi dico bene e magari se dobbiamo fare un regalo per Natale, se dobbiamo fare un pensiero che non sia lo spreco ma la condivisione con chi lavora in altri angoli del mondo. Certo, sicuramente il commercio equusolidale da anni che dice e sostiene che bisogna cambiare gli stili di vita e che questo tipo di sviluppo non era sostenibile e ha sempre cercato di portare avanti il tutto, il commercio proprio con un occhio produttore, quindi considerando non soltanto la qualità e il prezzo del prodotto ma anche la qualità di vita del produttore che riteniamo sia la cosa più importante come dimostra per l'appunto la crisi di questo periodo. Il convegno è interessante, ha dato dei grandi stimoli come sempre, una visione diversa, un modo diverso di intendere questa crisi e quindi anche da rivalutare tutto il lavoro anche di volontari, di tante persone, dei gruppi che stanno facendo tutto il possibile per arginare un po' questo fenomeno che ormai è diffusissimo in tante famiglie dei nostri paesi, insomma delle nostre comunità. Senti ma su di lì, verso Massino, mi sembra che fate anche delle cose interessanti, per esempio? Eh beh, per esempio ieri, anche uno sguardo sulla mondialità ancora perché non dimentichiamoci che noi abbiamo una crisi forte qui ma in paesi del terzo mondo l'emergenza continua, quindi per esempio giusto ieri sera abbiamo organizzato una cena di solidarietà, eravamo in tanti, più di 200 persone, tanti giovani, per acquistare un'incubatrice per il dispensario di Marovoa in Madagascar dove collaboriamo con un volontario di Insieme Si Può della nostra associazione che è lì da oltre 20 anni e che in questi anni ha visto morire molti bambini malnutriti, bambini prematuri che se avessero avuto una culla termica o un'incubatrice sarebbero sopravvissuti. Quindi ieri sera con questa cena abbiamo acquistato una culla termica che è già in partenza per il Madagascar. E poi mi sembra che ci sono anche altre attività, per esempio con ragazze di accoglienza e così? Sì, allora c'è una collaborazione con Liberazione Speranza, l'associazione che si occupa delle ragazze vittime della tratta, quindi loro chiaramente fanno un lavoro di prima accoglienza, però poi le ragazze che si fermano nei nostri territori hanno bisogno di un lavoro, di una casa e quindi anche di una comunità che in qualche modo le possa accogliere. E noi facciamo questo tipo di attività poi dopo, in un secondo momento, quello di essere vicine appunto nella ricerca del lavoro, della casa e dell'integrazione in una comunità piccola dove è più facile secondo noi avere delle opportunità. Matilde, tu sei stata con Donaldo Mercoli, un grande personaggio, un grande padre, testimone della Caritas Novarese. Che ricordi hai di quegli anni? E poi li leghiamo a oggi, ma di allora quando pensi alla nostra diocesi, alla Caritas di quei tempi, cosa ti viene in mente? E prima di tutto mi commuovo. E dunque non so se vi posso dire così serenamente quello che mi detta il mio cuore, ma sono stati tempi bellissimi, bellissimi. Quando la Caritas è iniziata, allora noi abbiamo percorso la diocesi per lungo e per largo. Prendevamo la nostra macchina la sera, andavamo dalla Valsessia a Novara, di Novara a Verbania, di Verbania al Cusio, del Cusio, hasta persino a Motarone qualche volta. È stato un periodo molto interessante anche perché coincidevamo con il Concilio Vaticano II. Adesso è un deserto se noi lo compariamo con quei momenti lì. E oggi come vedi le nuove strade della Caritas? Un deserto o un fiore che può nascere in questo deserto? Io penso che può nascere, può nascere ed è nato già, no? Perché la Caritas di oggi è anche un patrimonio bellissimo da molti anni. E poi penso che lo spirito ancora soffia, diciamo noi. Certo, forse abbiamo una chiesa un po' più addormentata, un po' più meno vivace e un concilio abbastanza dimenticato. Dobbiamo prendere quel soffio dello spirito, avere ancora speranza e soprattutto prendere i bisogni che ci sono oggi, puntare un po' sulle cause. Penso che le cause di questi bisogni che abbiamo oggi in tutto il mondo, che è questo capitalesimo, che è il neoliberalismo, che sono tutte queste situazioni difficilissime. Anche se sembra un sogno tornare alle cause dei problemi, penso che dobbiamo veramente, e oggi qui sono state anche accennate quelle cause. E dopo Matilde andiamo a ripercorrere anche qui le radici della Caritas con un volto però locale, Anna Maria di Arona, che ha vissuto dalla prima ora la Caritas e che credo ci ricorda però anche l'impegno di oggi. Tu sei segretaria del Consiglio di Ocesano della Caritas Novarese, ma sei anche di Arona. Noi siamo venuti con Dondino l'anno scorso, in questi giorni, più o meno a inaugurare Non di Solo Pane. Facci il punto di Non di Solo Pane intanto, che è questa mensa molto bella, che ha un bel nome, ad Arona. Diciamo che va avanti bene e da tre giorni, quando abbiamo cominciato, quando ci eravamo trovati a novembre, avevamo cominciato i primi mesi ad aprirla tre giorni alla settimana, adesso cinque giorni e abbiamo un bel numero di ospiti che si trovano bene e sono contenti di stare insieme. Certo abbiamo qualche difficoltà economica, per cui facciamo degli eventi per raccogliere dei soldi. Il 23 dicembre, ad esempio, facciamo una cena solidale dove ci sono paganti e non paganti, è una festa a cui invitiamo anche tutti. Allora anche gli spettatori di Non di Solo Pane sono invitati ad andare a Non di Solo Pane da Arona. Invece di questo convegno, cosa dici? Come l'hai vissuto, come lo stai vivendo? Siamo solo a metà giornata. Con un po' di emozione, perché davvero abbiamo cominciato in pochi e adesso vedere tanta ricchezza di volontariato, di volontà di fare qualcosa di nuovo, di fare progetti, quindi anche molto bello. Poi le due relazioni sono state molto interessanti. Quindi è un segno di speranza. Ah, questo sicuramente. 250 gruppi nella diocesi di Novara che si occupano di carità e oltre e sono legate alle parrocchie. È una ricchezza infinita. E così con l'entusiasmo degli amici della Caritas, con un augurio di buon compleanno agli amici di Non di Solo Pane, della mensa di Arona che compie proprio in questi giorni, prima di Natale, è un anno ed è una bella esperienza. Non di Solo Pane, doverosa la solidarietà e l'amicizia. Vi auguriamo anche buon avvento, questo tempo di preparazione. Geremia, lo sentiremo domenica, dirà Signore, nostra giustizia, in quei giorni Giuda sarà salvato, Gerusalemme vivrà tranquilla. In quel giorno spunterà un germoglio di giustizia, ecco, è dopo il ritorno degli esiliati, siamo intorno al VII-VI secolo prima di Cristo, il ritorno dei primi esiliati come segno di speranza. Vogliamo accogliere anche noi questo tempo in colore viola, perché è un tempo così di riflessione, di fatica, è il tempo dell'attesa, a volte anche del dolore come ogni attesa, ma ci apre la speranza. Buon avvento a tutti!